Ennesimo duro colpo allo smercio della droga a Gela, l'hanno inferto nelle ultime ore i carabinieri del reparto territoriale guidati dal Maggiore Antonio De Rosa. C'è un arresto e c'è anche il sequestro dello stupefacente. Le manette sono scattate per Andrea Giuseppe Maganucco, 25 anni, operaio, già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini dello spaccio di droga. I militari dell'arma già da alcuni giorni avevano seguito i movimenti del giovane che sotto la sua abitazione, nei pressi della zona dell'acropoli, entrava ed usciva continuamente da un garage. Una circostanza che aveva insospettito gli inquirenti. Ieri sera è scattata una perquisizione domiciliare ed il sospetto è divenuto realtà. In un mobile che si trovava all'interno del magazzino è stato rinvenuto un cospicuo quantitativo di stupefacenti. Un market della droga. Sotto chiave sono finiti 80 grammi circa di hashish, già divisa tra panetto e dosi singole, pronte alla vendita. 150 grammi di canapa indiana da suddividere nelle successive dosi, sostanze da taglio costituite da semplice zucchero venduto in farmacia e tutti gli altri strumenti per il taglio e la pesatura della droga. In totale sono stati sequestrati circa 250 grammi di stupefacente pronto per essere spacciato dal giovane, riferiscono gli investigatori, per il weekend della movita gelese. Come dicevamo, Andrea Giuseppe Magruco era già stato arrestato in altre operazioni di polizia giudiziaria, sempre per lo stesso reato. Adesso il 25enne si trova recluso nel carcere di Contrada Balate a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio. La droga sequestrata sarà analizzata dai laboratori competenti e successivamente distrutta. Le attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri continueranno intensamente in tutte le fasce orarie in maniera serrata, aggiungono i vertici del reparto territoriale di Via Venezia.